Ciao da Giuseppe di Piano Segreto, in questa lezione voglio spiegarti nel modo più semplice ed efficace possibile le terzine e in particolar modo la terzina di quarti o terzina di semi-minime. Questa è una figura ritmica che mette in difficoltà moltissimi musicisti alle prime armi, però è importante padroneggiarla al meglio perché è presente in tantissimi brani di ogni genere musicale. Una terzina è un gruppo irregolare, cioè un gruppo di note che non corrisponde alla suddivisione in cui ci troviamo. Sostanzialmente quando siamo in un tempo binario abbiamo un gruppo di tre note, si tratta di un gruppo irregolare. Viceversa se siamo in un tempo ternario e abbiamo un gruppo di due note, abbiamo un altro gruppo irregolare. In parole più semplici, siamo in quattro quarti, abbiamo il quarto che può essere diviso in due, quindi con una croma e un'altra croma in levare. Come facciamo a farci stare dentro tre note e calcolare quanto devono durare? Ci sono due modi principali. Uno è per imitazione, quindi ad orecchio. Ascoltiamo questa figura ritmica tante volte finché internamente proprio non riusciamo a scandirla correttamente, a solfeggiarla, oppure tramite un puro calcolo matematico. Cerchiamo quindi di combinare entrambi i modi perché sono tutte e due molto importanti. Prendiamo la terzina di crome o di ottavi. Dobbiamo riuscire a suonare tre note della stessa lunghezza all'interno di un battito, un quarto, quindi una sola pulsazione. Per farlo puoi aiutarti con una parola che ha tre sillabe, per esempio la più famosa e utilizzata è la parola Napoli. Quando quindi sentiremo il battito del metronomo, cominceremo con la prima sillaba, imbattere, Na, e poi cercheremo di dire le altre due sillabe facendole durare la stessa quantità di tempo. Proviamo. Più lento Senti come cerco di far durare tutte le sillabe lo stesso tempo. Per alcuni può non essere semplicissimo, ma non c'è nulla di meglio della pratica e dell'ascolto. Per questo utilizza il file audio per familiarizzare con la terzina di ottavi e ascoltala e prova a suonarla il più possibile. Ti basta accendere il metronomo e dire Napoli o qualsiasi altra parola con tre sillabe. Un piccolo consiglio è quello intanto di concentrarti nel far corrispondere Na con il click del metronomo. Te lo dico perché è capitato che alcuni allievi, purtroppo, per concentrarsi a cercare di far durare le sillabe la stessa quantità di tempo, perdevano il battere, il colpo. Quindi comincia senza troppe pretese con Na, 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 Napoli, 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 Napoli. Concentrati sul primo colpo. Per padroneggiare al meglio la terzina di ottavi ho preparato per te una serie di esercizi progressivi che puoi fare al pianoforte. Ricordati di partire sempre con una velocità che ti fa sentire a tuo agio, di non esagerare, e che se l'esercizio non ti viene, forse è meglio abbassare la velocità e riprovare. Il primo è molto semplice, si tratta di suonare terzine sulla scala maggiore di Do. Ti consiglio per cominciare di utilizzare solo le prime tre dita. Proviamolo. Naturalmente tutti questi esercizi li puoi fare in più tonalità e anche su scale diverse, e puoi adattare la diteggiatura come preferisci. L'esercizio 2 consiste nel suonare su una o più ottave, la scala maggiore, la scala minore, qualsiasi scala, suonando soltanto con le terzine. Anche in questo caso puoi scegliere di utilizzare solo tre dita oppure la diteggiatura della scala o altre diteggiature per sfruttare anche l'occasione di studio delle terzine per migliorare anche nella tecnica. L'esercizio 3 invece serve per padroneggiare queste terzine con tutte e cinque le dita. Quindi ti consiglio di rimanere sui primi cinque tassi, le prime cinque note della scala, e di utilizzare in successione le dita 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5 per fare i rispettivi gruppi di terzine, come adesso ti mostro. Passa poi ad altre tonalità o a utilizzare la mano sinistra. L'esercizio 4 è un semplice esercizio per suonare le terzine con le triadi in varie posizioni. Puoi creare le tue variazioni, l'importante è suonare accordi. Vediamo adesso la terzina di quarti. Ho dovuto spiegare prima la terzina di ottavi perché è fondamentale per spiegare come solfeggiare bene la terzina di semi minime. Questa è un po' più complessa perché passeranno due battiti, due pulsazioni, durante le quali dovremo suonare tre note di ugual durata. Ti spiego il calcolo in breve. Dobbiamo prendere i due battiti e dividerli in due gruppi di terzine di ottavi. Vogliamo suonare tre note uguali in questo spazio di due battiti che abbiamo diviso in sei. Quindi è molto semplice. Prendiamo sei, dividiamolo per tre e abbiamo tre gruppi da due ottavi terzinati. Se noi quindi leghiamo due alla volta questi ottavi terzinati, otteniamo tre gruppi da due ottavi terzinati che corrisponderanno a queste tre note che formano la terzina di quarti. Vediamo il procedimento. Cominciamo a segnare le due pulsazioni. Uno, due. Uno, due. Adesso, invece di contare uno, due, contiamo un, due, tre, un, due, tre, contando però le terzine di ottavi di queste due pulsazioni. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Napoli, Napoli. Un, due, tre. Un, due, tre. Sto contando le terzine di ottavi. Adesso, invece di contare un, due, tre, manteniamo la stessa pulsazione, lo stesso ritmo, e contiamo solo un, due, un, due. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due. 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 Ora, invece di dire un, due, un, due, un, due, diciamo solo uno, ma nella testa dobbiamo mantenere questa pulsazione, questa suddivisione. Quindi, ricominciando. Ed eccoci arrivati alla terzina di quarti. Suoniamola col metronomo. Una cosa che può aiutarti è anche pensare alla sequenza delle note della terzina e dei battiti del metronomo. Quindi, abbiamo la prima nota della terzina di quarti insieme al primo battito del metronomo. Poi abbiamo la seconda nota della terzina. Poi abbiamo il secondo battito del metronomo. Quindi, la seconda nota e il secondo battito del metronomo sono desincronizzate. Quindi, l'ultima nota è dopo il secondo colpo del metronomo. Nella seconda ripetizione si riparte col colpo del metronomo e Na di Napoli insieme. Vediamo adesso gli esercizi con le terzine di quarti. Primo esercizio. Il secondo esercizio serve per evidenziare ancora di più la differenza tra le terzine di ottavi e le terzine di quarti. Prendiamo la battuta di quattro quarti. Nei primi due battiti suoneremo due terzine di ottavi e nel terzo e quarto battito della battuta invece una terzina di quarti. Nel terzo esercizio suoneremo di nuovo la scala su più ottave in senso ascendente e discendente, con la ditteggiatura che preferisci, utilizzando però soltanto terzine di quarti. Nell'ultimo esercizio invece alterniamo un accordo della durata di due quarti e l'arpeggio dell'accordo, puoi farlo in senso ascendente o discendente come preferisci, sempre ovviamente della durata di due quarti perché si tratterà di una terzina di quarti. Per nostra fortuna quando dobbiamo esercitarci con gli ritmi, le pulsazioni, non è necessario essere per forza al piano, quindi puoi praticare le terzine quando vuoi. Ti basterà quindi iniziare a schioccare le dita a tempo o battere sulla mano e provare a dire a voce la terzina che vuoi esercitare o con l'altra mano appunto battere sull'altra gamba. Insomma puoi fare quello che vuoi, puoi anche ascoltare i file audio che ti ho messo a disposizione e provare a cantarci dietro o suonarci dietro o battere le mani insieme alle terzine. Ci sono tantissimi brani che hanno la terzina, ti invito a trovarli, provare a suonarli anche per padroneggiare le terzine. Uno che conoscono tutti e che quando gli si chiede di cantarlo riescono anche a cantarlo a tempo in modo molto naturale è il brano Can't Help Falling in Love di Elvis Presley e durante il ritornello fa I can't help falling in love falling in love falling in love da 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 Napoli Questa è una terzina. È un esempio lampante di come possiamo trovare la terzina letteralmente ovunque sia nei brani pop, jazz che classici. Spero che questa lezione sia stata chiara e utile, se hai delle domande o hai bisogno di approfondimenti scrivimi a pianosegreto.com oppure lascia un commento sotto il video di YouTube. Ricordati di mettere like, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i video futuri di Piano Segreto. Ciao! Ciao!